Cari lettrici, cari lettori, tra pochi giorni uscirà il nuovo numero di equilibri, il numero di marzo e aprile. Come abbiamo preso questa bella abitudine di questo incontro per cui vi illustriamo cosa troverete, cosa potrete leggere nella rivista. Nel numero di marzo e aprile abbiamo preso in esame il tema della violenza, lo abbiamo declinato in vari modi e il dossier sulla violenza parte con un bellissimo articolo di Carla Stroppa che prende in esame l'innocenza soprattutto dei giovani che a un certo punto della loro vita diventano violenti. Il dossier quindi prosegue con un bell'intervento di Francesco Roat, il titolo, ve lo riassumo, due mila anni di cristianesimo ma la violenza tra gli uomini è aumentata. Poi abbiamo, grazie a Barbara Scapolo, un'intervista al filosofo Umberto Curi. E' un'intervista molto molto importante in quanto proprio in questi giorni esce un suo ultimo libro su violenza e Islam e il filosofo anche in questo caso non cade nella cronaca ovviamente ma continua a fare il filosofo e poi ci spiega la violenza dell'Occidente, cioè come l'Occidente risponde a una certa violenza e lo fa prendendo in esame tre parole opportunismo, retorica e superficialità. Abbiamo anche la firma diretta di Umberto Curi che ha fatto un pezzo molto molto interessante intitolato così, il rugby tra forza e violenza e la possibile festa dell'umanità. In buona sostanza spiega come, quando ci sono delle regole, come nel caso di uno sport come il rugby, è difficile parlare di violenza. Il dossier poi prosegue, sapete tutti che siamo nell'epoca della globalizzazione, per qualcuno stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili, invece Mariolina Graziosi ci spiega come il mito del libero mercato e della democrazia sia forse appunto un mito. La violenza continua anche nelle nostre società, nelle nostre società dove parliamo della Cina c'è un capitalismo selvaggio. E quindi prosegue questo dossier, mentre nella sezione approfondimenti prenderemo in esame un nuovo libro che è uscito e si intitola Il caso Mersot di uno scrittore algerino che è come se fosse un sequel del famoso libro di Albert Camus, Lo straniero. Ecco, sarà un articolo, diciamo, un po' contro tendenza rispetto alla critica che quest'ultimo libro ha avuto. Serena Bedini invece scrive dei poeti che si sono cimentati con il romanzo, o comunque con la prosa. Sono moltissimi i pezzi che si possono leggere nella sezione approfondimenti. Segnalo, per esempio, che c'è Claudio Tugnoli che ha scritto un intervento significativo sulla dead education e prende in esame una serie di seminari fatti all'Università di Padova sul tema di imparare a morire. Quest'anno ricorre anche il trentesimo anniversario della morte di Simone de Beauvoir e dedichiamo a questa grande scrittrice, a questa grande intellettuale, un servizio. Volevo però segnalare una cosa. Ovviamente poi ci sono le rubriche, la rubrica d'arte, la rubrica della graphic novel, la rubrica del cinema e quant'altro, oltre alle recensioni e alle schede degli ultimi libri usciti in questi due mesi. Ma mi preme segnalare che anche questo secondo numero di quei libri avrà la copertina d'autore. Avrete visto che il primo numero aveva la copertina di Gillo Dorfless, questo numero invece avremo la copertina di Emilio Isgro. come già avevo spiegato nelle precedenti occasioni, per tutto l'anno qui libri dedicherà una copertina ad un grande autore. Vi attendiamo tutti perché questo numero non potete assolutamente perderlo. Grazie a tutti.